di educazione finanziaria, di come è possibile gestire il bilancio economico di una famiglia con oculatezza, la giusta informazione, le giuste misure, Barbara. E lo facciamo dando subito il benvenuto alla professoressa Anna Maria Lusardi, direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Buongiorno professoressa, ecco, che cosa si intende per educazione finanziaria e perché è così importante? Intendiamo i concetti che ci servono per prendere le decisioni finanziarie, i concetti di base, in sostanza quello che ci serve sapere per gestire bene i nostri soldi e continuando con la storia dello sport, in finanza valgono le stesse cose, per vincere si deve avere informazione ed essere allenati, non dobbiamo battere nessun record ma cercare di fare bene. Il comitato che presiedo, che ha tra l'altro quattro ministeri all'interno, ha proprio questo scopo, di aumentare le conoscenze finanziarie affinché le persone possano prendere delle buone decisioni che siano adatte a loro e alla loro situazione. Ecco, dottoressa, a me mi si è rotta la serratura di casa, sono quelle spese improvviste, impreviste che capitano a tutti, possono essere la rottura di una lavatrice, di una lavastoviglie, insomma, come si affrontano queste spese improvviste nel bilancio familiare? So che tra l'altro il comitato di educazione finanziaria ha creato un portale, ve lo leggo, quellocheconta.gov.it, in cosa può aiutarci? Allora, voglio proprio riprendere questo, abbiamo scritto un portale che serve proprio a prendere bene le decisioni finanziarie, si chiama quellocheconta.gov.it e lì troverete le informazioni di base, delle piccole guide per queste decisioni finanziarie, una descrizione di tutti gli strumenti finanziari, previdenziali, assicurative e anche dei consigli su come orientarsi in queste scelte. E quello degli imprevisti è molto importante e noi lì diamo tanti consigli, adesso che siamo in emergenza abbiamo anche messo le dieci cose da sapere nelle situazioni di emergenza, quindi consiglio a tutti di consultarlo. Ecco, professoressa, quando ci propongono l'acquisto di un prodotto finanziario, assicurativo, a cosa dobbiamo fare attenzione? Dobbiamo fare attenzione alle loro caratteristiche. Ed è per questo che consiglio ancora una volta, la prima cosa da fare, andiamo sul portale a leggere la descrizione di questi prodotti finanziari, li abbiamo elencati tutti, proprio tutti. La seconda cosa da fare è di informarci bene, le informazioni sono importantissime e tra l'altro è quello che usiamo in tutte le altre decisioni che facciamo. Pensiamo ad andare in vacanza, pensiamo ad comprare un nuovo climatizzatore, no? Raccogliamo queste informazioni, quindi informiamoci bene, confrontiamo proprio più prodotti, non dobbiamo soltanto fermarci al primo e soprattutto non firmiamo se non abbiamo compreso. In un flash per finire, quando dobbiamo cominciare a parlare ai nostri figli di educazione finanziaria? Il più presto possibile, perché le nostre abitudini verso i soldi si formano molto presto. Io dico sempre date ai bambini un salvadanaio e lo trasformerete in un abile banchiere. E soprattutto dobbiamo parlare di soldi ai bambini e alle bambine, a tutte e due. Siamo proprio in chiusura. In pochi secondi, ecco, tra un po' parte il mese dell'educazione finanziaria. A chi è rivolto? È rivolto a tutti. Per tutto il mese di ottobre vogliamo parlare di soldi. Mi sembra un argomento utile e vogliamo farlo entrando nella casa degli italiani. Quindi abbiamo messo l'educazione finanziaria dappertutto, in televisione, ma andremo a parlarne nelle piazze, nell'università, a scuola, in tutti i luoghi in cui è possibile parlarne. E vogliamo proprio usare questo mese, che è anche il mese della semina, per piantare questo seme, il seme della conoscenza, affinché le persone possono avere i frutti nel futuro. Quindi conto anche su di voi per continuare a parlare di soldi ad ottobre. Assolutamente. Grazie dottoressa, ci saremo.